Vediamo la rincorsa dalla parte opposta, da parte di Gitto con la flotta bassa su Caliberda, ricezione, sbagliata ma Michael Christensen, con una furbata da bimbo che trova il modo di rubare i biscotti dallo scaffale in alto, compensando il peso con dei sassi raccolti in cortile, fa la finta e porta a casa il punto. Fate il servizio dello Zara, fortissimo, la palla si impegna, finisce nel metà campo di Modena, Rossini l'appoggio e poi Christensen, con la mano mancina, di prima intenzione, diciottesimo punto per Modena, showtime al pala barbuto, firmato, alzi muto le uscius Modena, firmato Ivan Zaitsev e Michael Christensen.